Ciao a tutti ragazzi, qui sono Davide Rowe Sly E oggi abbiamo deciso di iniziare una nuova serie di Minecraft Dove credo che ci saremo io, Sly e forse anche TxWix E questo sarà il primo episodio Noi abbiamo già iniziato, per non farvi vedere la parte più noiosa Che tipo il punto di spawn non ci stiamo andando Ora stiamo cercando un tesoro Perché abbiamo trovato delle barche dove c'erano appunto delle mappe del tesoro E qua Sly? Eh no, però è sotto il mare Quindi dobbiamo scavare più da poco Eh mi scoccia Eh permette se ci sono diamanti Mi scoccia lo stesso Vabbè io pego un po' di legno Con le carote e spacco tutto Sì Sì Come vedete abbiamo trovato un bel po' di loot Anzi questa armatura me la devo ancora mettere Abbiamo trovato La bella lana ce la siamo fatte noi Poi abbiamo trovato le bambuche Ci serviremo per fare tipo Cioè le moltiplicheremo Mettendole poi cresceranno E faremo una farm Una specie di farm di bastoni Oh Sly se trovi delle alghe da qualche parte prendile Perché poi si può fare le farm di alghe che serve come carburante Il blocco di alga Forse mi sono tu Forse noi per ora ci accamperemo in una di queste navi Dove sei? Vabbè Io adesso Mi c'è tre scuola Ma è tutto pieno di sottio Cioè ogni cosa che sto a cominci a indicare della fredda sottio Ok sono proprio chiuso nella merda Vabbè se vanno proprio avanti c'è l'acqua Sì Più o meno Ma posso Ma posso Ma posso Sommi dire La bestia è qua mi dice Aspetta Di qua Qua sotto Sì Eh parca merda Cioè Non credo Ma scava Io dino scava Ma scava tu Io faccio cose Minchia però Potevo prendere io La mettevo la mia texture Ma io la tua texture di merda Eh fatti Sì Sì Minchia Davvero? Tutto scappa Davvero? No Non ho trovato di una macchina Ma ho già trovato ora E perde E' delle pozioni E' delle pozioni E' delle pozioni E' delle pozioni Calmati Aspetta Aspetta Ah Io non lo sprecherei quest'armatura Quindi Se non si chiude le parti di stivari La sprecherei un po' più avanti Cioè per ora che Sprechiamo l'armatura Per il danno da caduta Se ci pensi Adesso ragazzi Ovviamente Sarà un po' Cioè saranno io La prima parte Ma vi consiglio di andare a vedere Poi i prossimi episodi Per vedere se vi piace la serie Appunto Allora Le nostre tesore Le abbiamo vute tutte Solo Tutte Due quali Quindi Ora A esplorare A trovare Un bel refugio Per la casa Ora io sto prendendo Un po' di ferro Grezzo E poi vengo Poi ragazzi Poi ragazzi Potremmo anche decidere Di farci Cioè di condivide Di fare La condivisione In schermo Cioè tanto noi Abbiamo condiviso L'account Con tre persone Ora wins Si deve mettere Ancora l'account TixWix E noi Però ce l'abbiamo Tutte e due Quindi potremmo condividere Cioè che io una volta Uso Voi vedete Il mio schermo E nell'altro episodio Vedrete Quello di Sly Ad esempio Oppure Se volete vedere Il solito schermo Potete anche dirlo Cioè In senso Non c'è problema Qua c'è Ora si chiama Liblu Ah si Ma io Nella Playstation 3 Una volta Ho scavato In quei tappetini E ho trovato Tipo Una stanza segreta Dove c'era Una mela d'oro E due villager zombie E' una pozione di dentezza Ma non so Cioè Non so Perché Ma Non c'è Il blu Ma c'è Una cosa E' una cosa Come di ghiaccio Cioè E' picchi di ghiaccio Ma Cioè Vabbè Ma non è Il blu Ma Ma Cazzo Mi aspetti un attimo Che cacchio Sì Ho intravisto qualcosa Ah Sì E' un bioma Più o meno Sì Comunque Non dobbiamo uscire Fai dalla mappa Per ora Perché se Non so Dove si ritrova Eh infatti Io non Non ti trovo più Mi spetta Che sto Ritornando Io sono All'inizio Dei picchi di ghiaccio E ci sta facendo Anche notte Siamo nella merda Dove c'è Che forse Ti vedo No Non c'è Dunque Fai Ritornare Nella mappa Ma io vedo Anche una nave Mi sa che sto Ritornando Sì Sto Ritornando Una mappa Intanto vado Nella nave E mi rifugio Lì Perché Sennò Qua fuori Mi muoio A posto Io ci sono Vieni Io sto andando Nella mappa Cioè Nella nave È tutta rotta Cacchio Però le abbiamo Trovate tutte Intere E questa qua È l'unica Che troviamo Rotta Sembra Giusto Tanto sto Prendendo Loot Di qui Ce n'era Anche poco C'era solo Una cesta Mi sembra Un po' strano Lo vediamo qua No Sembra C'era solo Quella Sì Ah non mi dà Manche blocchi Quando si suggerisce La nave Non mi dà I blocchi Sì Cosa non ho appena Giunto Sly 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 Che cazzo fai Forse devo Prendere Colascio Sly C'è un problema Quando 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 Ma Ma Non mi dà più i blocchi Eh sì Tutti Eh Non avevi raccogliato Da uno Che c'è Quale Ti istruispi Ragazzi Se non l'avete capito Sly C'è un problema Prova di suggerire Un blocco Te l'ha dato il blocco Che cazzo succede Eh questo potrebbe essere un problema Vabbè faccio Ragazzi farò un piccolo taio E Non devi Disattivarlo Quella roba A posto Si droppo Ok Vabbè ragazzi Abbiamo sistemato Ora Sly Spero che mi inviterà E ora Si inizia Eccoci ragazzi Ok Era solo Un piccolo errore Che ha fatto Sly Nel creare il mondo Questo è un piccolo creeper Tanto piccolo no Oh senti Ma se ci accampiamo Se ci accampiamo Qui Do stupida notte Senza morire Ah io ho precisamente 8 sciottoli Per farmi una fornace Quindi la farei Abbastanza velocemente Metterei questo 5 di legno Anche se ho Carbone Vabbè Prendiamo un po' di cibo E poi ci avventuriamo Per vedere il posto dove fare la casa Infatti mi sembrava stanno che non mi dava Le robe Pensavo fosse che magari Ho messo che nella nave Non ti potevano andare Gli oggetti Aspetta faccio una spada Non posso Porca merda Aia Porca merda Stai se mi muori adesso Aia Sai mi spieghi come cacchio lo stai uccidendo Ok Ho due di vita A posto Tutti giù Tutti giù Guarda c'è stato qua sotto E' sempre bello Grazie Tutto qua sotto Allora C'è pure la porta Oh sai Guarda laggiù Vedi Che caccia Stai Ma c'è Tipo se vai più là Vedi quel blocco di pietra C'è tipo un blocco di pietra Sì quello la Quella con La massica La massica La massica Sì Che è Perché qua Ah siamo nella zona Pondio Pondio Ah Gionato Pondio Ok Questo video sto durando anche troppo Vabbè Ancora non si è fatto niente Quindi credo che durerà la mezzoretta E abbiamo trovato un'altra barca Ma questo Ma come hai messo sto barca Stai Salto della vita Che culo Non è una barca Come è una barca Ah si è una barca Non metto la barca Ho una di vita Ah Tieni Tieni un po' di cibo Scusa Perché c'è stato una barca Io figlio tutto Ok Ok Allora Ora è notte Quindi è un po' difficile viaggiare Io direi di accamparci Qua in questa grotta E poi più avanti Si vede Ok Aspetta Che non ti vedo Facci più il nome Cioè comunque A me mi è rimasta giusta Una carota E ci faccio la coltivazione Poi quindi Non dico Cioè direi di non sprecarla Oh io direi che questo Potrebbe essere il posto giusto No Pianura Una casa mezza rotta Che cacchio è Non lo so Non porti Fermo 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 Non c'è niente Mi sa che è un villaggio Bagato Non porti Minchia quanto è bagato Sto mondo Io sono riferito Un po' infatti Cioè io ho detto Abbiamo trovato una cosa Fighissima E invece no Un villaggio bagato Vabbè Questa casa la potremmo Completare però Si infatti Ho detto Non è che è una casa Mezzo di srutta Laggiù c'è una igloo Comunque Uno dei quelli Cosi che va Nella neve Guarda c'è niente Andiamo a vedere E Stai con una PlayStation 3 E sotto ci dobbiamo Trovare un po' di roba C'è niente Questo video sarà un po' di esplorazione Cioè Oh Eccolo ho trovato L'altra volta non l'avevo trovato Andiamo 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 Ma guarda com'è fatto tutto qua Lo so Aspetta prima di prendere la roba Non prendere niente Non prendere niente Eh cacchio Guarda sai che serve C'è anche la pozione di rientezza vero Si lo so Allora Non fallo Non fallo Non fallo però Ma qui c'è una pozione Qui c'è una pozione Ok vediamo Smeraldi No non cazzo Qua c'è una pozione di rientezza Infatti Minchia però ci possiamo brigare Anche questo Che culo Rubiamo tutto Cioè ti rendi conto Adesso possiamo farci Che culo Oh il calderone Prendi Eh non c'ho spazio Aspetta lascia le mele Le mele di merda Dammela mele Eh fanno schifo Le mele C'è no le mele Eh ma qua c'era anche Le mele Eh ma qua c'era anche la cazza Gli spattaggi Gli spattaggi Gli spattaggi Niente Qua che c'è Scusa Niente Ma questo che scambia Andiamo a vedere che scambia Sto villager Già l'ho visto Pocca cosa Sì fa schifo Che fai Ti vi blocchi Ok Guardare qui io Aspetta un attimo Butto questo Questo Io giusto questo Questo butto Ok Mamma mia però SIRVE FISH Niente Lascia stare Ciao Ciao Ma si trovano Si trovano i blocchi Che si spaccano più lentamente Io mi li sto pigliando Lo stesso i blocchi Cioè Sono faighi Ma che figli Sono questi però Questi Questi qua Una figata Che rumore strano Che ho fatto Sto Io lo ucciderei pure Ma cosa vorrei c'è Cacca Vabbè Cioè Mi è stata Ma perché non mi fa salire Boh Non mi fa salire Vabbè A te stai distruggendo tutto Vero Io sto distruggendo Sei anche un pezzo di merda Perché ti sotto Le scale Cioè Nel senso Vabbè Vabbè ragazzi Questo video Quanta cosa Quanta cosa C'è Nessuno Questo video Mi è garbato Sinceramente Perché abbiamo trovato Un pozzo di roba E io direi Che la casa La possiamo fare lì Ma se 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 Finiamo la casa Invece di farcela Una nuova La facciamo gigante Adesso che non ci ha fatto Un po' caso Diciamo questo A posto Ho la macchia Tutti in mano Ecco Con questa La cosa Allora posso Soprere dove sti con l'un Allora Noi dobbiamo fare Quella cosa Ci facciamo Una casa nostra Oppure Facciamo Che questa casa Diventi Una villa gigante Cioè Facciamo Che questa roba Diventi Una villa gigante No No Non ancora Explorare Cioè Per dirti La casa La tua La fa Nella Va bene Solo che il video Sta andando anche Troppo No 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 Continiamo la casa Perché poi Cioè per dirti Dobbiamo trovare Un brodero di gioco E poi non sappiamo Dove E' vero E' vero Ah si è vero Perché se no Poi lo mettiamo Allora Io ce l'hai due cesta A mettere qua Non ho quattro Minchia Ce l'ho E guarda quanto sono lenti Perché non ho Uccido Ah ma Allora Facciamo così Vabbè Io direi Di concludere qua Il video Ora mia madre Ha fatto riduzione In casa Direi di concludere Il video qua E ci vediamo Al prossimo video Credo che Io ce la Faremo Cioè Continueremo Un po' la casa Dopo E poi Ci vediamo In un prossimo video Perché farvi vedere Sempre le soliti cose Non credo sia giusto Dai Da me Sly E' tutto Ciao